Ma io dovrei spiegare mille cose, la prima è perché mi trovo a fare del teatro drammatico e serio, visto che il mio curriculum non depone su questo capitolo qua. Però sono arrivato a un'età anche veneranda per fare questa sfida e ho raccolto questa sfida che mi ha lanciato, lo dico con molta sincerità e con molto affetto, mi ha lanciato Angelo Valori qui dell'MP, il presidente. Io ci ho pensato perché avevo timore di non imparare il copione, avevo timore di non essere all'altezza perché ho sempre fatto un teatro popolare di intrattenimento, di second ordine, quello che conoscete tutti. Quindi è stato un momento per misurarmi se a 65 anni che è un po' tardi perché in effetti il personaggio come recita ne ha 58 e quindi ho cercato di vestire bene i panni di Aqab. Che poi alla fine, quelle cose che di solito sento dagli attori veri quando interpretano, poi il personaggio ti prende perché ho cominciato ad amare proprio Aqab nonostante un vecchio despota caratteriale, assurdo e con quest'odio addosso contro la balena. In realtà è una persona dolcissima ed è fragile come tutti noi, fragile anche davanti alla disgrazia del suo moncone che è stato sbranato appunto dalla balena. E quindi l'ho amato e spero di essere all'altezza della situazione. Il 2, lo ricordo, facciamo un po' di pubblicità, il 2 di agosto, ore 21, teatro d'annunzio. Grazie.